Gentili telespettatori, buona giornata, Flavio, briatore, dispensa ottimismo, l'ottimismo e il profumo della vita. Dice dopo il covid e la crisi sarà una grande estate, ma caro, caro, caro briatore, mi scusi, ma il covid non è finito perché non è stata dichiarata la fine della pandemia e la crisi internazionale non è mica finita, quindi sarà una grande estate di quale anno parla? Vabbè, perché briatore è l'ebriatore, un imprenditore deve fare quello che sa fare, dice, creare ricchezza ai posti di lavoro, anche sfidando le circostanze negative. Come fa a non perdere l'ottimismo? Gli chiede il giornalista, dice, anche nel momento più difficile, quello del covid, noi abbiamo avuto comunque ristori proporzionati dappertutto, a parte l'Italia. In che senso? Ristori proporzionati dappertutto, a parte l'Italia? Questa frase non ha senso. In quasi tutti gli altri paesi i dipendenti hanno preso la cassa integrazione a salario pieno. Durante il covid l'azienda quindi non ha sofferto. Sì, siamo stati chiusi, è mancato l'incasso, non abbiamo distribuito i dividendi perché li abbiamo reinvestiti, però tutta la parte del personale nei paesi dove operavamo è stata sostenuta dai governi. Anche i nostri dipendenti ne sono usciti benino alla fine. Ah, ok, sta parlando delle sue attività negli altri paesi. Dice, la crisi i primoproi dovrà finire e comunque devi sempre investire nelle speranze. La gente parla, parla. Vedo alcuni personaggi nei talk show, tutte persone che non sono mai state in Russia, che non hanno mai avuto un cliente russo e che oggi emettono sentenze. Prima, con la pandemia, erano tutti professionisti del covid. Oggi queste figure sono state spazzate via perché sono diventati tutti esperti di geopolitica, anche quelli che sino a ieri facevano la calzamaglia. E sì, poi quando arrivano i mondiali dove noi non ci sieremo, no, diventano tutti commissari tecnici della nazionale. E' così. Gli italiani si laureano su Google. Dicevo, c'è un problema. Aspetta un attimino che vado lì, digito due cose. La prima cosa che viene fuori su Google, quella è la verità. Una volta si diceva alla televisione, l'hanno detto alla televisione, come dire, se lo dicono alla televisione vuol dire che è vero. Questo negli anni 70-80, dove non c'erano notizie false, non c'era disinformazione, c'erano dei dibattiti politici in televisione seri, tutti di sinistra, perché la destra, centrodestra, era esclusa dalla società, in quanto quelli erano quelli in camicia nera. Quindi loro non esistevano. Però comunque, si diceva che quello che si diceva, che si raccontava in televisione, quindi era vero. Oggi, che quello che si racconta in televisione, il 70% sono balle, la gente, qualunque cosa trova su internet, anche nel sito bufale.qualcosa, ci credono. La gente cerca qualcosa, digita, la prima notizia, la legge, è la verità, senza sapere chi l'ha scritta, come e perché. La verità. E così tutti diventano esperti di tutto. Dice, non sapeva neanche che esisteva quello Stato, va lì su Google, in dieci secondi diventa un esperto di geopolitica, e ti fa tutti dei racconti, tutti sconclusionati, senza né capo né coda, sgrammaticati, diventano tutti esperti oggi di geopolitica. Ma Briatore dice, io sono certo che avremo una stagione piena ed il cliente migliore sarà l'italiano. Mascherine, green pass, controlli, in questi due anni non si capiva un cacchio, dice, su chi poteva entrare e chi poteva uscire. Quest'anno sì, sarà un'estate normale. Dice, mi aspettavo che la diplomazia riuscisse a fermare la crisi internazionale, soprattutto dall'Europa, mi aspettavo pure che gli ammarcani scongiurassero questa cosa, invece dopo quello che è successo con il ritiro dall'Afghanistan, un errore grave che ci ha dato un'immagine di debolezza americana. E sì, quella dell'Afghanistan è stata una figuraccia molto peggiore di quella di Salvini con le magliette in Polonia. Eh sì, la figuraccia dell'Afghanistan che poi non se ne è parlato più, più, no? Non è interessato più a nessuno dopo quello che succede lì, a nessuno, a nessuno. Ricordatevi che ci sono cose di serie A, di serie B, di serie C e di serie Z. Bene. Secondo, secondo briatore è mancata completamente la diplomazia. Caro briatore, vorrei ricordarle che la diplomazia ha successo quando le persone si vogliono mettere d'accordo. Se una delle parti non si vuole mettere d'accordo, è inutile continuare a dire la diplomazia, la diplomazia, se uno non vuole sentire e non puoi farci niente, puoi farci niente. Ma lui dice che è mancata completamente la diplomazia. Ma questa è una frase comune che continuano a dire in questi giorni, ma è una frase dozzinale, perché se si va a fondo, se si va a fondo, si dice ma certo che ci hanno provato, ma erano tutti negoziati finti, dice le cose bisogna fermarle prima che inizino, dopo è difficile. Ecco, questa può essere anche una riflessione giusta. Tu devi mettere in atto delle cose atte a prevenire, perché prevenire è meglio che curare. Ma Briatore dice che l'ostacolo che blocca l'Italia è la burocrazia e ha ragione su questo. Lo sanno tutti ma nessuno fa niente e ha ragione. Siamo un paese fermo e ha ragione. Dobbiamo liberalizzare e ha ragione. Abbiamo messo su il reddito di cittadinanza perdendo molta forza lavoro che non si impegna più a cercare un posto e ha ragione. Ragione per cui se io fossi il governo nel reddito di cittadinanza lo sospenderei. Io lo modificherei più che sospenderlo, perché sospenderlo vuol dire che poi lo riattivi. Abolirlo, forse voleva dire. Però no, io direi che va modificato e dato solo a chi veramente ha bisogno e poi lì è tutto un problema capire come fai tu a capire chi ha veramente bisogno. Anzi, andava sospeso ad aprile, dice, perché siamo un paese che ha il turismo come prima azienda di valore. Questa è una cavolata, Briatore. Che fai? Sospendi il 24 di aprile e sospendi il reddito di cittadinanza e poi lo riattivi al primo di settembre quando finiscono le vacanze. Questa è una tavanata galattica. Briatore, insomma, quindi, come si fa a dire delle cose così, Briatore, lui fa l'imprenditore, così, cosa vi devo dire. Dice che lui ha problemi a trovare il personale perché oggi le persone vogliono più tempo libero. E beh, insomma, la vera conquista di questo secolo è il tempo libero. Non il denaro che non puoi spendere perché lavori 24 ore al giorno, ma il tempo libero è la vera ricchezza nel 2022. Il tempo libero. i giovani vogliono il tempo libero. È certo. Certo che vogliono il tempo libero. E hanno ragione. Siamo nati per fare gli schiavi di qualcuno, di qualche imprenditore? No. No. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie. Grazie.